Un buon pomeriggio, prima edizione del nostro telegiornale che apriamo ovviamente con le novità che arrivano da Rigopiano perché si continua ancora a lavorare per cercare di portare in salvo quante più persone possibili dall'hotel che è stato travolto dalla Slavina. In questo momento sono nove le persone salvate, più le due raggiunte e salvate nei primissimi momenti del soccorso, 5 i cadaveri recuperati e 23 le persone ancora disperse. Questo è il bilancio provvisorio della tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola travolto da una Slavina con un lavoro incessante andato avanti anche per tutta questa notte alla luce delle foto elettriche i vigili del fuoco hanno recuperato due donne e due uomini che si aggiungono ai quattro bambini e alla donna estratti ieri. Si continua a scavare per portare fuori un uomo che rimane ancora sotto la neve. La speranza, hanno spiegato alcuni soccorritori, è ancora tanta anche se in questo momento non sono state captate altre voci. Ovviamente a complicare il lavoro e i soccorsi contribuiscono anche le cattive condizioni meteorologiche con la neve che è tornata a cadere su Rigopiano nel corso delle ultime ore, la nebbia che impedisce agli elicotteri di alzarsi in volo, il pericolo ovviamente che ci siano nuove Slavine. Tutti i sopravvissuti sono complessivamente in buone condizioni e peraltro poco fa sono arrivate le parole del capo della protezione civile Fabrizio Curcio che ha confermato che sono nove le persone già salvate, due vivi ma ancora da estrarre e cinque le vittime. Le operazioni sono ancora molto complicate e in condizioni estreme. Tra le persone che sono state ricoverate nell'ospedale di Pescara ci sono cinque adulti, Adriana Vranceanu, Francesca Bronzi, Vincenzo Forti, Giorgia Galassi e come detto Giavone, San Paolo Matrone che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al braccio destro. Quattro invece i bambini, si tratta di Gianfilippo e Ludovica Parete, Edoardo Di Carlo e Samuel Di Michelangelo. In mattinata peraltro i vigili del fuoco avevano detto anche che c'erano altri segnali sotto la neve e sotto le macerie. I vigili del fuoco stavano verificando, potrebbero esserci delle persone vive ma anche alcune strutture dell'albergo che si muovono sotto il peso della neve. Questo è quanto aveva riferito a metà mattinata il dirigente dei vigili del fuoco, Alberto Maiolo, al centro operativo di Penne in un aggiornamento sulle ricerche dei dispersi. Vista la situazione, già aver estratto delle diverse persone vive una grossa soddisfazione, aggiunto Maiolo, dobbiamo muoverci con molta cautela perché lo stato dei luoghi è ovviamente pericoloso anche per i soccorritori. Però, lo ripetiamo, le persone che in questo momento sono state estratte, vive anche, se ci sono ancora altre due persone ancora da estrarre, sono Adriana Vranciano, Francesca Bronzi, Vincenzo Forti, Giorgia Galassi, Giampaolo Matrone, sono gli adulti. E poi quattro bambini, Gianfilippo e Ludovica Parete, Edoardo Di Carlo e Samuel di Michelangelo, ancora sono 23 per la prefettura i dispersi, risultano ancora 23 le persone risultanti dalla lista ufficiale degli ospiti della struttura e da altre segnalazioni comunque ricevute e la cui composizione è soggetta ovviamente a continue verifiche. Come è successo in altri eventi? Ad esempio, spiega la prefettura, persone considerate disperse in base a una segnalazione e risultanti in un elenco sono state ritrovate altrove e senza essere state coinvolte. Ovviamente c'è un balletto di cifre che ovviamente lascia anche in uno stato di angoscia i parenti, familiari, di tutti coloro che non hanno ancora notizie delle persone a loro care e peraltro possiamo vedere anche un post Facebook del sindaco di Osimo che in parte smentisce quelle che erano state le notizie da lui segnalate proprio sul social network che fanno riferimento. Eccolo qua, questo è il chiarimento di Simone Pugnaloni. Con riferimento alla comunicazione data nella giornata di ieri sulle condizioni della famiglia osimana dobbiamo prendere atto che solo il piccolo Samuel è salvo. Dunque scusandoci con la città e con i familiari di Marina e Domenico per l'increscioso equivoco generato probabilmente dalla concitazione e dall'emozione del momento la nostra comunità continua a pregare senza perdere la speranza. Dunque un passo indietro da parte dell'amministrazione del primo cittadino Pugnaloni di Osimo che ieri aveva quasi annunciato il ritrovamento della famiglia proprio del centro marchigiano invece per il momento solamente il piccolo Samuel è stato tratto in salvo. Sempre a proposito di social network sono arrivati i ringraziamenti di Giampiero Parete che è stato uno dei primi ad essere salvato dalla Slavina proprio perché non si trovava all'interno della struttura. ha voluto ringraziare tutti perché ieri nella mattinata sono stati salvati la moglie Adriana e il figlio Gianfilippo e nella serata di ieri anche la piccola Ludovica Parete è stata tratta in salvo dall'hotel Rigopiano ed eccolo qua il post di Giampiero Parete che ringrazia di cuore a tutti e manda un abbraccio di fatto la famiglia ricomposta quella parete. E a proposito dei familiari nella tarda mattinata si sono susseguite le visite di parenti e amici nel reparto di rianimazione di Pescara. L'ufficializzazione dei nomi sopravvissuti ha suscitato emozione ma come detto anche preoccupazione per i dispersi a causa della confusione dei nomi circolati nella giornata di ieri fuori dal reparto i familiari che intanto attendono notizie sui dispersi solo uno dei cinque adulti portati in salvo ha necessitato di intervento chirurgico e lo ripetiamo si tratta di matrone che come hanno spiegato i medici che tra un po' sentiremo in conferenza stampa ha subito questo intervento chirurgico per una decompressione al braccio destro. Intervento concluso poco prima delle ore 13. Il paziente come hanno detto è in discrete condizioni. Non ancora ufficializzati invece i nomi dei corpi trovati senza vita perché la prefettura di Pescara ha comunicato soltanto i nomi e le generalità ai familiari ma c'è ovviamente l'assoluta necessità di informare tutti i familiari per non permettere una fuga di notizie che potrebbe aggiungere preoccupazione e disperazione ad altra disperazione. E a proposito del bollettino medico dei medici dell'ospedale di Pescara questa mattina ce n'è stato un altro alle 11 hanno voluto rendere note le condizioni delle persone portate in salvo nella giornata di ieri ancora senza nome i corpi come detto ritrovati senza vita ma come sottolineato anche in conferenza la prefettura si è preoccupata di renderli noti solo ai familiari. Verranno ufficializzati solo quando i parenti più stretti saranno tutti informati. Allora andiamo ad ascoltare il bollettino dei medici dell'ospedale di Pescara con Francesca Romalatesti. Si informa che risultano presenti presso l'ospedale civile di Pescara i seguenti pazienti. Diamo i nomi perché oramai sono di pubblico dominio. Quattro bambini Le condizioni cliniche dei ricoverati sono buone. Solo un paziente attualmente in sala operatoria per un intervento chirurgico all'arto superiore destro. La prefettura ha già informato i familiari dell'identità delle tre vittime fino ad oggi conosciute. Ai familiari va il nostro senso di solidarietà e vicinanza. La nostra struttura ospedaliera rimane in allerta per accettare eventuali altri pazienti. Il prossimo bollettino ci sarà alle 17.30. Le condizioni comunque sono buone, al di là del braccio sono buone. Gli bambini stanno bene, tutti quanti stanno bene, c'è solo questa persona che ha un problema al braccio dovuto alla compressione che ha ricevuto, per cui sta facendo un intervento che non ha nessuna frattura, quindi un intervento di decompressione sull'arto superiore destro. C'è qualcuno che verrà dimesso? Ad oggi no, in questo momento non c'è ancora nessuna dimissione, è stato già dimesso il papà dei bambini. Che però è qui con la famiglia? Sì, che è qui con la famiglia. Adesso, in questo momento, non c'è arrivata fino adesso nessuna comunicazione di altri arrivi. Hanno avuto accanto un familiare tutti i pazienti qui presenti. Insomma, come avete sentito le condizioni di coloro che sono ricoverati all'ospedale di Pescara e avete sentito anche che si è conclusa poco prima delle 13 l'operazione a Giampaolo Matrone, uno dei sopravvissuti. L'operazione al giovane 34enne, lo ricordiamo, residente in provincia di Roma, durata poco più di un'ora e ora il giovane è stato trasferito nell'unità operativa di rianimazione. Le condizioni, come avete sentito anche dai medici, sono discrete. E adesso ascoltiamo una testimonianza che parla del tentativo di far liberare la strada e consentire agli ospiti dell'hotel Rigopiano di ripartire, prima ovviamente della tragedia, un tentativo di far liberare la strada da parte di Roberto Del Rosso, proprietario dell'hotel. Questa testimonianza arriva da una donna scampata alla tragedia, 24 ore prima, pensate, della Slavina. Nel suo racconto il ricordo degli ospiti ancora dispersi, del personale dell'hotel e della preoccupazione che serpeggiava per l'elevata presenza di neve che continuava ad accumularsi ora dopo ora. Roberto Del Rosso provò a liberare la strada con un suo mezzo, ma gli fu impedito perché non di sua competenza. Sentiamo. Si cerca di ricostruire quello che è successo all'hotel Rigopiano e soprattutto si è parlato molto di chi voleva lasciare il posto proprio per la tanta neve, poi sono arrivate le scosse di terremoto. Nel suo caso martedì è riuscita a lasciare l'hotel Rigopiano, c'erano le persone che tutt'oggi sono ancora scomparse. In questo caso cosa si ricorda? La situazione? Si è parlato anche dell'aiuto che il proprietario stava cercando di dare a tutti gli ospiti? Sì, infatti noi fortunatamente siamo riusciti ad andare via con un po' di difficoltà perché noi abbiamo parlato con il proprietario al mattino e gli aiuti tardavano ad arrivare. Abbiamo atteso fino al pomeriggio, verso le 16-16.30, sono arrivati due spazzaneve e siamo riusciti ad andare via. Lei parla di martedì, in realtà poi delle persone che erano lì presenti e che sono ancora disperse, cosa ricorda? Noi siamo arrivati domenica sera e abbiamo avuto già difficoltà ad arrivare sulla struttura, tant'è vero che il proprietario è venuto personalmente ad aiutarci a parcheggiare l'auto, la nostra auto che era bloccata. E poi siamo arrivati sulla struttura, c'era tanta neve. Il lunedì lo spazzaneve è arrivato verso le 12, tant'è vero che hanno anticipato per chi volesse andare via di tenersi pronti perché sarebbe arrivato e sarebbero dovuti accodare lo spazzaneve. E poi la sera con gli altri ospiti, lunedì, si scherzava anche un po' sul fatto che si erano rimasti bloccati ed era quasi, tra virgolette, un piacere. Eravamo nella piscina all'aperto con la neve, quindi non avremmo mai potuto immaginare quello che sarebbe accaduto. E quindi c'erano, ricordo, la coppia di Atri che sarebbe dovuta andare via lo stesso giorno in cui siamo andati via noi, il martedì. Però loro dicevano tanto ad Atri, non c'è elettricità, è difficile anche raggiungere la località, quindi rimaniamo. Per quanto riguarda la coppia di parrucchieri, stavamo scherzando sempre in piscina e loro erano tanto è vero preoccupati per il figlio il giorno precedente, però poi tutto a posto. E quindi hanno detto, vabbè, noi rimaniamo perché non abbiamo particolari impegni. Tanto è vero che loro sono rimasti. Noi, sinceramente, dopo due giorni eravamo anche un po' stanchi di stare lì, comunque bloccati perché non si poteva andare neanche a cena fuori, e quindi abbiamo deciso di partire noi al contrario, altrimenti saremmo rimasti. Si è parlato molto dell'arrivo dello spazzaneve che poi è stato ritardato dalle 15 alle 19, alle 17 e 30 la Slavina. In questo caso, guardando anche quello che era il lavoro del proprietario, che si trovava spesso, come raccontato, a chiedere e soprattutto a scortare i clienti, qual era il suo comportamento? Era preoccupato? Lui sì, era un po' preoccupato, questo per quanto riguarda il martedì, perché lui cercava di contattare anche la provincia, perché lui avrebbe dovuto anche fare qualcosa con il piccolo mezzo che aveva, però non poteva perché non era di sua competenza, infatti non gli facevano aprire neanche la strada lì vicino, perché gli avevano riferito che non era di sua competenza. Tant'è vero che proprio noi prima di partire abbiamo detto state un attimo tranquilli, stanno arrivando, però tardano e sto parlando con la provincia per chiedere altri aiuti. Era un po' preoccupato, però poi si è risolto tutto bene per quanto riguarda il martedì. Lui comunque è stato veramente splendido tutto il tempo, anche la notte, durante la notte c'erano i ragazzi che lavoravano nella struttura, che cercavano di liberare tutto l'intorno, solo che ha nevicato di continuo. Non ci si poteva aspettare sicuramente una slavina che arrivasse da su. Si è parlato di una conta che ancora non è confermata di persone, perché prima si diceva 30, poi 35. Quante persone ha visto lei all'interno dell'albergo? Io ricordo bene queste due coppie di cui ho parlato, poi ricordo il cameriere, benissimo, di cui hanno ritrovato il corpo, poi ricordo il ragazzo alla reception, altre due coppie, ricordo. Bambini non ne ho visti, bimbi proprio, forse perché noi stavamo andando via, magari non ci è capitato poi la sera precedente, siamo andati a cena tardi, quindi magari loro... Ripetendo le immagini interne che sono riusciti a fare gli uomini della protezione civile, le aree che si sono viste, a cosa corrispondono? Allora, le prime immagini che ho visto sono quelle appunto della spa, dove era la piscina prima all'esterno, che era coperta, la piscina all'esterno completamente coperta di neve, poi all'interno invece era libero, poi ho visto le scale che portavano al piano di sopra, o meglio all'ascensore della spa, poi la cosa che mi ha fatto più impressione, che mi ha fatto davvero spavento, sono state le finestrelle in alto sul soffitto della spa, che dal basso guardavano l'altro e dall'alto guardavano il basso, e quella parte lì corrispondeva proprio alla parte, diciamo, un po' più a valle vicino alla sala pranzo, vicino anche, tra virgolette, la hall lì, sempre da quelle parti, e mi sono spaventata perché ho visto un cumulo di neve e di macere, e lì davvero mi sono spaventata, ho ottenuto il peggio, fortunatamente non per tutti. Tutto qui. È ancora un po' provata a vederla, perché ha capito che non sta a vincere, ma voi lo conosciate quel posto, perché da c'è il resto. E insomma avete sentito questa lunga testimonianza di questa sopravvissuta, davvero per miracolo, alla tragedia, alla slavina che ha colpito l'hotel Rigopiano. Intanto, noi vi ripetiamo il bilancio che di nove persone estratte vive, cinque persone che purtroppo non ce l'hanno fatta, 23 ancora i dispersi, ma riprendiamo anche le parole del capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, due persone, vive ancora da estrarre. E a proposito, purtroppo, delle vittime di questa tragedia, che sono le prime due in ordine di tempo, che sono il capo cameriere Alessandro Giancaterino, il cameriere Gabriele D'Angelo, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbero morte per assideramento e dunque non presenterebbero segni di traumi sul corpo. Dopo l'ispezione cadaverica, già eseguita sarà l'autopsia, forse in programma, nel pomeriggio a stabilire con certezza le cause del decesso. E il procuratore aggiunto di Pescara, Tedeschini, e il sostituto procuratore Papalia, stanno raggiungendo, accompagnati dai carabinieri forestali, l'hotel Rigopiano per un sopralluogo. I magistrati hanno aperto un'inchiesta al momento senza indagati per i reati di omicidio plurimo colposo e disastro colposo. Ieri erano stati sequestrati alcuni documenti in provincia e in prefettura, tra questi il piano neve dell'ente e i bollettini meteo degli ultimi giorni. Nella stessa giornata era emersa che una turbina della provincia era fuori uso. Sempre ieri i magistrati avevano ascoltato diverse persone in qualità di testimoni. E a proposito di persone che ce l'hanno fatta, adesso andiamo a vedere un video postato su Facebook dalla mamma di Giorgia Galassi, che nella giornata di ieri aveva tranquillizzato tutti sul fatto che la figlia fosse viva. Queste sono le immagini dell'arrivo in ospedale di Giorgia Galassi e Vincenzo Forte. La madre scrive «L'incubo è finito, l'arrivo in ospedale di Giorgia e Vincenzo, grazie che l'avete riportata da me, grazie di cuore a tutti per averci sostenuti così numerosi e fatto sentire il vostro calore, grazie di cuore». Queste sono le immagini dell'arrivo di Giorgia Galassi e di Vincenzo Forte all'ospedale di Pescara, due dei nove estratti vivi, più le due persone che erano riuscite a mettersi in salvo già dalle prime ore da questa slavina. E adesso continuiamo sempre a parlare di maltempo e rischio valanghe perché l'appennino abruzzese è a forte rischio, lo comunicano la protezione civile regionale e il comando unità tutela forestale ambientale e agroalimentare. L'ondata di maltempo che ha colpito nei giorni scorsi l'Abruzzo ha comportato infatti l'accumulo di strati di neve fresca su strati di neve precedentemente caduta, compattata e già trasformata. Questa condizione del manto nevoso provoca un aumento della instabilità di pennii montani caratterizzati da accumuli di neve con diversa consistenza, umidità e temperatura. I rilevamenti del servizio Meteomont del corpo forestale della regione Abruzzo hanno infatti evidenziato un grado di pericolo 4 su 5, dunque un pericolo forte per caduta di valanghe su tutti i settori osservati ed è proprio per questo che nella tarda serata di ieri i carabinieri della stazione di Lama dei Peligni in provincia di Chieti in collaborazione con quelli di Casoli, Torricella Peligna, Palena e dei carabinieri forestali della stazione Parco di Fara San Martino hanno provveduto all'evacuazione di 12 abitazioni per il potenziale pericolo appunto di valanghe e slavine le 35 persone evacuate sono attualmente ospiti o di familiari o di strutture ricettive e 23 sfollati invece nel paese di Ortolano sono stati alloggiati nel capoluogo di regione all'Aquila tanta la rabbia però per i ritardi nei soccorsi Germana Dorazio siamo stati evacuati dopo tante ore di sofferenza circa 3 giorni sotto 4 metri di neve non riuscivamo a uscire di casa una strettissima strada che mio marito batteva ogni 5 minuti perché con la bufera si ricopriva è arrivato il terremoto è stato fortissimo in casa mi è caduto tutto abbiamo fatto una casa antisismica di recente costruzione non ha riportato danni fortunatamente e non potevamo uscire perché fuori il tempo era quello che era preferivamo rimanere in casa in casa come vi siete riparati quindi dato che non potevate uscire o cosa hanno fatto? andiamo a un pian terreno, al salone ogni volta che c'era la scossa ci avvicinavamo alla porta ma non era il caso di uscire insomma finiva la scossa e ci calmavamo un attimo è drammatico il racconto di un incubo appena concluso da parte di Monica Cillitti una delle abitanti di Ortolano, franzione di Campotosto portata in salvo in elicottero dalla guardia di finanza all'Aquila nel capoluogo sono così ospitate 23 persone in pratica tutto il paesino di Ortolano tra loro anche il signor Giocondo De Dominicis il fratello di Enrico, l'uomo di 73 anni operaio Enel in pensione è travolto da una slavina provocata da una delle potenti scosse di terremoto mercoledì mattina mentre spalava la neve fuori dall'uscio di casa i paesani si stringono intorno a Giocondo lo rincuorano e lo abbracciano e tra gli sfollati circola anche una rabbia a stento trattenuta a causa anche del ritardo dei soccorsi che hanno raggiunto Ortolano il nostro paesano è rimasto purtroppo sotto una slavina non è venuto nessuno a scavare ha scavato solo mio marito per sei ore tornava a casa, scaldava le mani e riusciva di nuovo e si è stato detto che sono arrivati forestali, carabinieri, vigili del fuoco chiunque a scavare non è vero non è arrivato nessuno potevano arrivare gli sci alpinisti ho sentito persone che dicevano li stiamo mandando non è arrivato nessuno a Ortolano, spiega un ragazzo è rimasta bloccata in casa anche una bambina di un mese è per fortuna che l'energia elettrica almeno quella non è andata via in ogni casa c'erano legna e scorte alimentari sufficienti per resistere tre giorni torniamo per un attimo a Rigopiano per raccontarvi una storia particolare che si intreccia con ovviamente la gioia e la disperazione perché un bambino ricoverato all'ospedale di Pescara è rimasto talmente colpito dalla storia di Ludovica Parete che oggi appena sveglio ha chiesto notizie alla sua mamma scoprendo che la piccola vive e sta bene dopo aver letto notizia uscita anche ieri che Ludovica chiedeva dei biscotti ha espresso il desiderio di regalargliene un pacco protagonista della storia è un bambino di Pescara Francesco di 9 anni che insieme alla madre Attiglia questa mattina ha fatto visita proprio a Ludovica Parete in ospedale l'ha raggiunta nel reparto e ha consegnato il suo dono dunque un pacco di biscotti ad un medico davvero una notizia assolutamente particolare è giustamente da dare perché lascia comunque parecchia emozione continua invece l'emergenza elettrica nella nostra regione sono 33.000 le persone che non l'hanno ancora vista ripristinata in casa o nella loro azienda il ritorno alla normalità procede molto e forse troppo lentamente Alfredo Primante Passata quasi una settimana dalla bufera siberiana che ha messo in ginocchio l'Abruzzo sono ancora 33.000 gli abruzzesi le cui utenze usando il gergo tecnico dell'Enel sono disalimentate vale a dire senza energia elettrica e quindi fondamentalmente senza la possibilità di far funzionare gli impianti di riscaldamento domestico e non solo per le persone malate gravemente disabili significa nessuna possibilità di alimentare eventuali macchinari sanitari se non collegandoli ai generatori il dato è stato diffuso dal presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e fa riferimento all'ultimo bollettino emesso da e-distribuzione la società di Enel che gestisce la rete elettrica nazionale un'emergenza nell'emergenza quella dell'elettricità che passata la fase dei soccorsi dovrà essere oggetto di profonda riflessione e soprattutto di chiarimenti da nord a sud in regione interi paesi sono finiti al buio e al gelo ripiombati improvvisamente in un inverno medievale qualche giorno fa Enel in una conferenza stampa a Pescara aveva detto di aver fatto tutto il possibile e di aver investito oltre 200 milioni di euro nell'ammodernamento della rete elettrica soldi che evidentemente visti i risultati o non sono stati sufficienti oppure non sono stati spesi bene vero è che la portata dell'ondata di maltempo è stata eccezionale ma è anche vero che era stata ampiamente prevista molti sindaci hanno denunciato poi la carenza di informazioni e la difficoltà di comunicazione con Enel che dal canto suo ha detto di aver messo in campo tutte le procedure previste per il caso le scuse agli abruzzesi comunque sono arrivate ma certamente non saranno sufficienti a placare la rabbia di chi con anziani e bambini in casa è rimasto in blackout elettrico per giorni e di tutti quelli per i quali il blackout continua non basteranno neppure i 300 euro di tetto massimo dei rimborsi previsti dalla legge per ciascun utente privato nella cifra più cospicua che spetterà alle aziende che in questa settimana non hanno avuto la possibilità di lavorare anche in zone risparmiate dalla furia degli elementi ad ogni modo Feder Consumatori Abruzzo ha fatto sapere di essere a disposizione per illustrare i criteri di rimborso ai cittadini abruzzesi rimborsi che sono automatici e conseguenti all'accertamento delle ore di disservizio mentre per gli sbalzi di corrente che abbiano causato danni ad elettrodomestici ed utilizzatori di corrente gli stessi devono essere documentati e corredati da opportuna istanza analogo discorso vale scrive sempre Feder Consumatori per coloro che hanno subito danni dalla mancata erogazione di energia elettrica e soprattutto in provincia di Teramo alcune frazioni restano ad oggi ancora isolate e si continua a lavorare per liberarle completamente mentre resta incognita la riapertura delle scuole il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi ha detto stiamo andando nelle zone di collezione Sparazzano, Villa Romita con i mezzi a fare il massimo sforzo l'emergenza più grave è quella elettrica la gente è esasperata ci sono ormai zone senza luce da sei giorni dalla riapertura delle scuole per il momento della riapertura delle scuole per il momento non se ne parla conferma il sindaco che aggiunge come oltre alle zone di collezione che risulta ancora isolata si lavori senza sosta anche dentro i vari paesi per liberare le persone di fatto ancora bloccate in casa stiamo andando con le turbine dice ancora Maurizio Brucchi a mano dentro i vari paesi e le frazioni a pulire vicoli e vicoletti ancora bloccati dalla neve e continuano ad arrivare senza sosta le richieste di soccorso in provincia di Teramo in questo momento la più sotto pressione nell'emergenza maltempo ascoltiamo la testimonianza di un volontario del soccorso alpino raccolta dalla nostra Tania Bonnici Castelli lei sta effettuando dei soccorsi ma ha anche suo figlio bloccato a San Pietro vicino Isola del Gran Sasso si esattamente si trova a San Pietro di Isola da domenica ci sono 20 o 30 persone che non hanno più carburante non hanno viveri sono su e la turbina dopo quasi 4-5 giorni ancora non riesce a raggiungere questo posto che sta a 8 km da Isola non è e cosa si pensa di fare adesso? non lo so perché sto chiamando nonostante stai facendo i soccorsi nessuno mi sa dire a che punto sta la turbina c'è una situazione un po' di cioè siamo scordinati quindi a questo punto nessuno sa cosa fare all'altro credo lei stamattina che cosa farà? io adesso vado a San Giorgio a recuperare 6 persone che sono bloccate arriverà lì con gli sci? penso con l'elicottero e poi con le ciaspre l'ultimo pezzo ma penso che riusciamo ad arrivare molto vicini quindi non sarà problematica torniamo per un attimo a Rigopiano perché vi abbiamo detto del del salvataggio di Giorgia Galassi e Vincenzo Forti di Giulianova allora sono arrivate ovviamente le parole del sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro che ha seguito con apprezzione le notizie riguardanti le opere di soccorso una notizia davvero gioiosa è la fine di un incubo fortissima era la preoccupazione per i due giovani concittadini ospite dell'hotel esprimo continua il primo cittadino di Giulianova Mastromauro tutta la mia soddisfazione e la gioia dell'intera città insieme con la gratitudine a coloro che sono intervenuti e che hanno estratto dalle macerie Giorgia e Vincenzo ora li aspettiamo qui a Giulianova continua Mastromauro per riavbracciarli insieme con i genitori che hanno passato davvero giorni difficili senza però mai abbandonare la speranza naturalmente un pensiero va anche a coloro che hanno perso la vita quelli di Rigopiano di Ortolano di Poggiumbricchio di Castelcastagne di Rocca Santa Maria pregando conclude Francesco Mastromauro che la cronaca di questi giorni non registri più tragedie e a proposito di Rigopiano possiamo andare per un attimo sul web perché all'inizio anche il capo della protezione civile aveva detto che i recuperati sono nove le vittime sono cinque ma due persone vive ancora da estrarre per il momento e ci atteniamo a questa notizia apparsa pochi istanti fa sul portale repubblica.it sembra essere smentita la presenza di due persone vive da salvare i recuperati continuano ad essere nove le vittime vi avevamo detto salgono a cinque ma vedete i soccorritori che dicono sentiamo altri rumori e probabilmente c'è ancora speranza lo leggete la protezione civile rettifica le ultime notizie nella notte estratte quattro persone recuperati anche tre corpi senza vita l'identità non è ancora stata resa nota la prefettura come detto i dispersi sono 23 si continua a scavare nella zona cielo coperto e pioggia che certamente non facilita le operazioni ovviamente fino a che faremo delle parentesi su Rigopiano appena ci saranno degli aggiornamenti comunque andiamo avanti con il Tg ma rimanendo di fatto sempre alla questione maltempo perché ci sono piani per l'ipotetica evacuazione di ospedali gestione di eventuali massicci afflussi di feriti corsi di formazione ad hoc per il personale e attivazione di procedure speciali per trattare casi di ipotermia da valanghe e dentro l'estate bando per l'appalto della centrale regionale di Elisocorso del 118 dell'Aquila la cui progettazione sarà avviata entro febbraio questi in sintesi sono i punti principali dell'unità di crisi della ASL 1 approntata in questi giorni dalla direzione ASL per l'emergenza neve e sisma su tutto il territorio provinciale abbiamo pianificato le azioni da mettere eventualmente in atto dichiara il manager dell'ASL Rinaldo Tordera in caso di necessità ciò al fine di fronteggiare al meglio e nel dettaglio senza lasciare nulla al caso le situazioni critiche che dovessero presentarsi un assetto organizzativo di uomini e mezzi che sarà ulteriormente perfezionato nelle prossime settimane e che riguarderà tutti gli ospedali della provincia una procedura per trattare in modo rapido e incisivo casi di ipotermia legati al rischio valanghe restiamo all'Aquila perché conclusa l'emergenza per il comune che lunedì riaprirà le scuole non si fermano invece i soccorsi e l'assistenza alla popolazione nei paesi della provincia colpiti da sisma e maltempo continuano le attività della sala operativa della prefettura dell'Aquila il prefetto dell'Aquila Giuseppe Linardi accompagnato dal comandante provinciale dei vigili del fuoco Egno Aquilino ha incontrato sui luoghi maggiormente colpiti dagli eventi sismici e dalle precipitazioni nevose i sindaci di alcuni dei comuni più interessati Capitignano Montereale e Campotosto sono state raccolte tutte le indicazioni e le richieste sottoposte al vaglio del centro di coordinamento soccorsi istituito appunto presso la sala operativa della prefettura dell'Aquila intanto per il comune dell'Aquila sia oggi conclusa l'emergenza e le scuole sono in via di sanificazione per la riapertura di lunedì mattina per il ripristino delle lezioni rimane comunque aperta al pubblico la struttura di Murata Gigotti gestita dalla protezione civile della Proloco di Coppito che dispone di un tendone munito di brandine che sarà aperto tutta la notte inoltre sarà aperta anche la casa del Trentino sempre a Coppito a disposizione dei più bisognosi anziani bambini e portatori di handicap per i cittadini più svantaggiati a disposizione anche la struttura ex caritas tra pagliare e sassa entrambe le strutture sono riscaldate dotate di brandine e bagni i carabinieri del comando provinciale di Chieti con la collaborazione dei carabinieri forestali del gruppo sempre di Chieti hanno raggiunto le località di Passo Lanciano e Mamma Rosa dove in alcuni alberghi sono bloccati ma per fortuna senza particolari problemi numerosi utenti tra cui alcuni gruppi di studenti gli uomini dell'arma al comando del colonnello Luciano Calabro comandante provinciale dei carabinieri di Chieti coordinati dalla prefettura sempre del capologo Teatino hanno raggiunto entrambe le località ed hanno avviato le operazioni di rientro delle persone che in questi giorni sono rimaste bloccate dalla neve non ci sono emergenze sanitarie e nella struttura funzionano regolarmente i servizi l'arma ha dislocato in zona alcuni elicotteri pronti ad eventuali interventi in caso di emergenza il dottor Paolo Dallavilla dell'istituto zoo profilattico d'Abruzzo e Molise di Teramo parla dell'emergenza animali che in Abruzzo si somma a quella che riguarda le persone l'IZS ha lanciato un help desk al numero 8000 82 280 oppure 0861 33 25 00 oppure via posta elettronica all'indirizzo Juvene chiocciola izs.it di fatto si è rivelata la sovrapposizione di tre emergenze estremamente critiche c'è una caduta eccezionale di neve protratta nel tempo che si è stratificata si è ammassata un evento sismico non registrato sicuramente da molti 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 anni e il blackout tecnologico ed energetico per gli animali si sta rivelando una criticità estrema tenuto conto che tuttora è difficile raggiungere persone che hanno bisogno di assistenza e che non sono in grado talvolta nemmeno di raggiungere a pochi metri l'alimentazione che potrebbero somministare gli animali i dati sono solo relativi evidenze che abbiamo agli allevatori che hanno potuto come perché collegati segnalare determinate necessità voi avete un numero di emergenza si è stato istituito un help desk che è attivo dalle 8 di mattina alle 20 tutti i giorni 8000 82280 da rete fissa 0861 332500 da rete mobile tutti i giorni incluso i festivi dalle 8 alle 20 se c'è la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica si può scrivere a iuvene 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 chiocciola izs.it rimaniamo sulla situazione maltempo e vi facciamo vedere delle foto davvero belle perché i Pescara Rangers e il gruppo organizzato della tifoseria e a Biancoazzurra come avevano già comunicato nel pomeriggio di ieri stamattina si sono recati ad Atri e Manopello per dare una mano ai cittadini dei due centri colpiti dal maltempo e dalle forti nevicate dei giorni scorsi armati di pale guanti e scarponi già dalle prime ore hanno aiutato i mezzi e gli operai a liberare dalla neve le zone più disagiate delle cittadine queste sono le foto scattate proprio questa mattina nel centro storico di Atri dove si sono ritrovati per dare il via alle operazioni peraltro nel comunicato diffuso proprio dai Pescara Rangers nelle ultime ore c'era scritto neve, esondazione terremoto e balanghe ci possono far cadere ma nessuno può impedirci di rialzare di ricominciare con più forza e più voglia di prima non è un appello continuava il comunicato ma un invito ad unirvi a noi per i nostri fratelli per la nostra terra orgogliosi più che mai delle nostre origini di essere pescaresi e abruzzesi e queste immagini davvero molto belle ci introducono anche alla pagina sportiva che apriamo ovviamente con la richiesta da parte del Pescara che è vicina ai familiari parenti e amici delle vittime di ha inoltrato una richiesta alla Lega Calcio di Serie A per far osservare domani prima di Pescara Sassuolo un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime della tragedia di Rigopiano verificatasi mercoledì scorso e poche ore dopo la Slavina la società Biancazzurra attraverso i social aveva manifestato dolore e commozione per quanto era accaduto qualche mese fa l'intero staff del Pescara era stato presso l'hotel Rigopiano per far effettuare ai calciatori terapie e massaggi nell'area benessere dunque un minuto di raccoglimento chiesto dalla Pescara Calcio prima della partita di domani tra i bianco-azzurri di Massimo Oddo e i nero-verdi di un pescarese con un abruzzese come Eusebio Di Francesco allora poco fa ha parlato il tecnico bianco-azzurro formazione però ancora in alto mare per il Pescara oltre ai lungodegenti sono da valutare le condizioni del ginocchio di Gilardino e quelle di tre giocatori colpiti da influenza Cerri, Memuschai e Fornasier rientra Jean-Christophe Baibac indisponibili invece Montari e Kubas con il recupero di Fornasier il tecnico Oddo potrebbe confermare la difesa a tre altrimenti tornerebbe alla linea a quattro decisiva la rifinitura che comincerà tra pochi minuti ma il pensiero dell'allenatore del Pescara ovviamente non può che andare ai fatti dell'hotel Enrico Piano e noi lo ascoltiamo beh siamo rimasti tutti colpiti da quello che è successo in generale perché perché fa male fa male a tutti in particolar modo a noi perché non più di due mesi fa sì siamo andati siamo stati ospiti di Roberto il proprietario di questa struttura meravigliosa che purtroppo è stata colpita e quindi siamo particolarmente vicini a lui e a tutti quelli che sono stati coinvolti in questa in questo in questo evento che è successo ovviamente molto molto spiacevoli contentissimi per tutti quelli che sono stati salvati in particolar modo per questi bambini e ovviamente molto amareggiati per per le notizie negative che ovviamente arrivano ha senso giocare secondo te? Ma ha senso giocare purtroppo di eventi negativi al mondo ce ne sono veramente tanti e tutti i giorni se se per ogni evento negativo si deve fermare il mondo non avrebbe nulla più senso perché sarebbe sempre fermo quindi siamo consapevoli che l'area che si respira in questo momento soprattutto nel nostro Abruzzo è un'area negativa però la vita deve andare avanti sempre tenendo ben presente quello che succede e tenendo presente che il nostro è un gioco e invece quello che succede non è un gioco anzi è un qualcosa di veramente spiacevole adesso valutiamo oggi la situazione degli ultimi che si sono fermati per febbre che sono Cerri, Memusciai e Fornasie valutiamo oggi e facciamola conto il Girardino ha fatto dei trattamenti anche ieri e anche lui dobbiamo valutarlo mi aspetto un Sassolo equilibrato perché è una squadra equilibrata una squadra che gioca bene al calcio che ha un'idea di gioco una propria identità e prova a fare la partita quando c'è la possibilità e al contempo è una squadra che sa anche difendersi molto bene quindi credo che sarà un Sassolo equilibrato Marcello è prontissimo il mister Donatelli è la mia spalla il mio braccio la mia mente tutto perché è un ragazzo veramente in gamba l'altra volta era tutto preoccupato di me ma come si fa adesso io ho detto ma tu stai sereno tanto quando si ha un secondo è perché si ha fiducia in lui e io ho la massima fiducia in lui quindi lui andrà in panchina e prenderà le sue decisioni e adesso andiamo sulla sponda emiliana in casa Sassuolo ad ascoltare le parole di Eusebio Di Francesco ovviamente anche lui abruzzese doc non poteva non tornare sui fatti che hanno sconvolto la nostra regione e hanno colpito l'hotel Rigopiano dico solo che personalmente vivo il momento particolare dei miei conterranei abruzzesi con regionali sapendo che ci sono delle criticità veramente importanti conoscevo bene anche l'albergo dove di Rigopiano tante situazioni che mi dispiacciono è ovvio che sono vicino vicinissimo a loro il fatto che si debba giocare a meno dipende tantissimo dalle forze dell'ordine da quello che le persone sono apposta lì per poter determinare certe scelte io devo farne altre quello che dico che a volte sicuramente maggiore sensibilità per questi eventi ci vorrebbero magari non giocarla potrebbe essere positivo o negativo o magari riavviciniamo un pochino tutti a delle situazioni un pochino più di serenità che è quello che mi auguro che torni presto nella mia regione queste partite sono veramente insidiose perché sono un po' quei crocevia in cui l'orgoglio la determinazione la voglia di far bene da parte loro può fare la differenza ma io voglio altrettanto della mia squadra voglio grande determinazione grande combattività al di là dell'aspetto tecnico-tattico voglio che siano in partita per tutta la gara dicono di essere quasi all'ultima spiaggia è ovvio che vengono esasperate determinate situazioni perché mancano 18 partite ma loro hanno bisogno di vincere come noi vogliamo portare a casa un risultato positivo cercando sempre di ottenere il meglio cioè i tre punti veniamo da un periodo in cui le trasferte non sono state positive perché quest'annata abbiamo fatto sette sconfitte due pareggi e una sola vittoria nella prima giornata di andata per quello vogliamo ritornare al successo vogliamo ritornare a festeggiare anche fuori casa al di là dove andiamo a giocare che per me sì che ho il cuore bianco-azzurro nel senso che ho sempre tipato per quella squadra però sono un professionista e cercheremo di andare a pescare per portare a casa i tre punti io ho un ottimo rapporto sia con la dirigenza che con tanti con Massimo con Oddo e con tutto il resto ma anche l'ambiente ho vinto un campionato ho un bellissimo ricordo delle due stagioni con le note in Pescara però adesso io sono legato a una società a cui sono veramente legato lo ribadisco l'ennesima volta come il Sassuolo e voglio voglio il bene del Sassuolo in questo momento io devo dire che la sconfitta l'ha avuta più la società che la squadra io mi posso prendere le responsabilità della squadra e questa è una responsabilità invece legata al fatto di qualche errore nostro e non ce la possiamo prendere più di tanto con quelli del Pescara insomma una tiratina d'orecchie da parte di Eusebio Di Francesco alla sua società ritornando sulla vicenda della gara di andata che poi ha portato allo 0-3 a tavolino per il Pescara prima di chiudere andiamo in Serie D e una notizia che prendiamo dalla pagina Facebook dell'Avezzano dunque Serie D Girone G comunicazione dell'ultima ora eccola qua la Lega Nazionale dilettanti di Serie D ha appena comunicato all'Avezzano Calcio SRL l'annullamento della partita Foligno-Avezzano per ordine della pubblica autorità al cospetto del Foligno Calcio questo annullamento si tradurrà in settimana tramite il giudice sportivo con la vittoria a tavolino per 0-3 dell'11 del presidente Gianni Paris che così passerà da 26 a 29 punti in classifica ed è tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale la seconda questa sera alle ore 19 ovviamente con ampio spazio alla tragedia che ha colpito l'hotel Rigopiano per il momento è tutto vi ringrazio per l'attenzione vi auguro un buon proseguimento di giornata per l'attenzione Grazie a tutti.